Sono otto e rinvia giudizio decisi dal presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Giovanni De Marco nell'ambito dell'operazione Picasso, tesa a sgominare una banda che nell'ultimo anno aveva commesso furti e razzie in negozi e abitazioni nei territori di Milazzo, Spadafora, San Pierniceto, Torregrotta, Venetico e Pace del Mela. In tre hanno optato invece per il rito abbreviato. L'operazione fu portata a compimento l'8 maggio scorso dal personale del commissariato di Milazzo a seguito di indagini coordinate dal sostituto procuratore Alessandro Liprino. La prossima udienza è stata fissata per il 17 dicembre. Sono stati rinviati a giudizio Francesco Ruvolo, 62 anni di Milazzo, Sascia Luigi Calderone, 33 anni di Pace del Mela, Andrea Cuzzupè, 42 anni di San Filippo del Mela, Vincenzo Rodriguez, 26 anni di Spadafora, Venera Lenzi, 26 anni di Torregrotta, Edmond Ondoi, 40 anni di origine albanesima, residenti a Milazzo e le Milazzesi, Graziella Crudele, 48 anni e Maria Ruvolo, 28 anni. Hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato il prossimo 27 novembre, invece Maurizio Milio, 49 anni di Milazzo, Carmelo Sgro, 24 anni di Spadafora e Giuseppina Roberta Saia, 37 anni di Pace del Mela. L'operazione Picasso prese il nome dal modello di autovettura che la bando utilizzava nelle sue azioni, due Citroen e Sara Picasso appunto. Le indagini, durate circa otto mesi, furono condotte con intercettazioni telefoniche ed ambientali, analisi dei tabulati e servizi di osservazione, appostamento e pedinamento.